Sì, con il Presidente Musumeci e anche con il Sindaco Orlando abbiamo già aperto il tema dell'accoglienza e siamo ovviamente disponibili nell'ambito delle scelte che si faranno a livello europeo e a livello regionale di assegnazione di questi europei che scappano dalla guerra, di questi ucraini che veramente hanno avuto una spada che li sta colpendo fuori da ogni ragionevolezza, fuori da ogni criterio. La rottura del principio democratico è pesantissima. Siamo tornati ai anni 50, è veramente incredibile come in così poco tempo si sia perduto tanto terreno che si era faticosamente conquistato abbattendo i muri, distruggendo gli arsenali nucleari. Siamo tornati veramente agli anni 50 e allora bisogna reagire con la Ostpolitik che la Germania fece negli anni 70, con quella lungimiranza che ha portato i leader europei a costruire un'Europa inclusiva.